Bene, abbiamo applaudito tante persone, tanta gente questa sera e allora adesso vi chiedo uno sforzo, uno sforzo da fare tutti quanti insieme. Adesso io chiamerò tutti i maestri che hanno suonato perché è giusto che anche loro ricevano il loro applauso perché sono stati veramente bravi e allora dobbiamo intenderci in questo modo. Il vostro applauso deve essere un applauso continuativo. Quando io leggero i nomi dovrete applaudire un po' più piano e poi finiti i nomi più forti. Vediamo, io penso che si possa fare, tutti quanti insieme. E allora cominciamo a chiamare la sezione flauti e voi cominciate ad applaudire pianino. Miriam Pia Giovanni, Nauretta Messo, Arianna Rosina, Marta Luca, Anna Salvani. Sessione Clarinetti, Gianfranco Mello, Milenia Bellani, Luca Dio, Marco Lozani, Valentina Musso, Alberto Pani, Antonio Santilelli, Mario Settanino, Sass Soprano, Massimo Santanino, Sass Contrati, Alex Boccia, Dalia Grisolio, Andrea Martinetto, Marco Nasero, Marco Nasero, Oletta Maggiori, Isabella Previsi, Sanse Penori, Stefano Morgon, Michele Di Muro, Sezione Trombo, Giovanna Nobile, Marco Farretto, Marco Filino, Il nostro presidente Andrea Ortega, Eugenio Corri, Eugenio Morale, crapola, Sezione Corri, Luigi Adelante, Enrico Bonsolandi Francesca Chiesa Carlo Durante Carlo Guerrelli Sezione Bombardini Matteo Borga Andrea Ciamato Daniel Pavese Sezione Fabotto Giulia Daniele Sezione Bombardini Renato Cellino Gabriele Gagliani Gian Piero Manfatta Nicola Signor Nicola Signor Padre Pavecchia Enrico Udini Sezione Bassituba Antonio Stilo Giovanni Battista Fidelini Chitarra Passo Matteo Manizza Matteo Manizza Alle percussioni Fabrizio Mirna E giusto perché la sua serata in tutte le sezioni Marco Scassa Allora Pagliamici è proprio finito qui o ne vogliamo aggiungere ancora un pezzettino? E però si sente poco E allora richiamiamo il nostro pluridecorato maestro Vieni vieni maestro vieni vieni eccolo qua Richiamato a gran voce dal popolo eccolo qui Grazie Grazie Grazie